Senigo di Venezia, veloci dunque ancora per un'altra finale tutta sprint sempre sulla distanza dei 500 metri ricordiamo il percorso per uno sviluppo di 300 metri dunque un giro più 200 metri a completare la distanza ci sembra di intuire che manca una delle tre, una delle quattro finaliste per questa gara della categoria Juniores femminili dunque Serena Agostino della patinatore San Mauro Torinese, non c'è Giulia Lolo Brigida della Cardano In Line la sorella di Francesca non si è presentata alla via e dunque dicevamo Serena Agostino patinatore San Mauro Torinese Daria Tiberto della polisportiva Bellusco e Benedetta Rossini della rinascita patinaggio Ravenna a questi gli atleti, le atlete che sono pronte per questa finale dei 500 metri Juniores femminile toccherà poi agli Juniores maschili, i Signores femminili, i Signores maschili e passeremo poi a seguire invece la categoria Signores maschili con una finale tutta da aggustarsi sulla distanza dei 20.000 metri, 20 chilometri ad eliminazione poi invece toccherà in chiusura la categoria Juniores partenza, tre atlete, qui stavolta si attende un attimo ma attenzione perché c'è chi gioca di sorpresa siamo dunque al momento della campana ed è Serena Agostino a fare l'andatura poi seguita da Daria Tiberto in terza posizione Benedetta Rossini un cognome storico per il patinaggio Ravennate Rossini è dunque una grande tradizione di famiglia che continua ma siamo sempre con Serena Agostino che affronta in testa l'ultima curva alle sue spalle c'è Daria Tiberto e poi Benedetta Rossini in terza posizione vedete che rimangono invariate queste posizioni tenta per un attimo la numero 52 Daria Tiberto di recuperare ma non c'è storia dunque vince Serena Agostino, seconda Daria Tiberto, terza Benedetta Rossini rallenti naturalmente del traguardo ma foto finish che serviva ben poco visto che le posizioni oramai erano segnate e anche questa splendida immagine rallentata frontale come vedete ancora qualche gocciolina di tanto in tanto ma per fortuna